Salve! Allora, stasera invece di parlarvi di un libro che ho letto e recensirlo, vi parlo di un libro che ho scritto. Infatti voglio parlarvi di Life for Me, Professione Bugiarda, in origine intitolato L'Accomodatrice, prima che dovessi cambiargli titolo per esigenze editoriali voluti dalla casa editrice. Allora, prima di tutto la copertina, è la mia borsa, si è vista? L'Life for Me, o l'Accomodatrice, è in vendita su tutti gli store online, da Amazon a Kobo, a Mondadori Online, IBS, iTunes, può essere scaricato da tutte queste piattaforme, costa pochissimo, solo 3 euro. Per ora è solo in ebook, spero l'anno prossimo di potervi dare la possibilità di comprarlo anche cartaceo. Allora, si tratta di un ciclito, nel caso non lo sapeste, si tratta di un ciclito che racconta le vicende di Alice Schiano che di professione fa la bugiarda per gli altri, o l'accomodatrice, come si definisce lei, una vera professionista delle menzogne. Se avete qualche problema, bisogno di superare degli ostacoli sul luogo di lavoro, coprire il fatto di avere un amante, sorpassare il vostro collega per una promozione, ottenere denaro, eccetera, 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 Alice può essere la soluzione per voi, in quanto troverà il modo attraverso bugie di farvi ottenere quello che volete. Allora, quando ho creato questo personaggio? La mia idea era di creare qualcuno di molto divertente, e anche di molto forte, ma soprattutto qualcuno che fa qualcosa di sbagliato, ma non rendendosene conto. Cioè, lei si vede come una professionista che fa un lavoro serio dal suo punto di vista, che aiuta in un certo senso le persone in cambio di denaro, cioè si considera la stregua di un avvocato. Non pensa alle conseguenze che le sue bugie hanno sulle terze persone coinvolte. Infatti, certo, una bugia che può aiutare una persona può creare problemi a un'altra persona ad esso collegato. Ma lei non si sofferma su questo, è più una persona immediata, che vede le cose per quelle che sono al momento, non pensa molto al futuro, non pensa assolutamente al suo passato, perché diciamo che è un passato abbastanza doloroso, e guarda al presente, dritto davanti a sé, dove punta, lei va. Quella che può sembrare all'inizio strafottenza o menefreghismo, in realtà nasconde molto di più, ma lo scoprirete se leggerete il libro. Life for me, o l'accomandatrice, era il primo volume di una trilogia, ho già imbastito anche il secondo e il terzo volume, anche se non ho ancora avuto il tempo di scriverli, perché nel frattempo dopo ho finito un altro romanzo, di cui spero potrò parlarvi a breve, e nel secondo e nel terzo si approfondisce ancora di più il personaggio di Alice, del poliziotto che Alice conosce nel primo libro. e le cose si approfondiscono molto, soprattutto perché Alice è una persona con molti strati, non è così superficiale come può apparire all'inizio, e anche se è molto divertente. Non saprei cosa dire per convincervi a comprare il libro, se non che secondo me fa molto ridere, e parte da un'idea che magari non avrete trovato in altri romanzi. non è perfetto, perché io non sono perfetta nemmeno alla mia scrittura, però secondo me è scorrevole e una lettura piacevole, una lettura leggera e piacevole per passare il tempo, magari durante queste feste di Natale o da regalare a una persona. per farvelo un po' conoscere meglio, voglio leggervi un estratto, una delle parti che preferisco del libro. Allora, in questo caso abbiamo Alice che telefona... Allora, è già successo l'attentato alla vita di Alice, che c'è proprio all'inizio del libro, e che lei ha sottovalutato completamente, perché pensa sia stata una mera coincidenza che l'auto che stava usando fosse esplosa. Più o meno. Alice, pur essendo rimasta scossa dall'incidente, perché è rimasta scossa, non lo vuole dare a vedere, men che meno a se stessa, e va dritta per la sua strada, infatti chiama la sua segretaria proprio per assicurarsi che non abbia cancellato un appuntamento che ha quella sera, un appuntamento di lavoro. Spendo due parole per descrivere la segretaria di Alice. Allora, se Alice fonda la sua vita, sia privata che lavorativa, sul fatto di mentire, Giulia è cronicamente incapace di mentire. Cioè, lei pensa a una roba, la dice, non ha filtri, è incapace di mentire, anche quando le gioverebbe, sinceramente. Ed è una persona che dice sempre ad Alice quello che pensa. Non dico la sua coscienza, però sicuramente qualcuno è in grado di tenerla un po' in riga, e magari anche di tenerla in vita, in questo caso. Allora, pronto Giulia? Non hai disdetto il lavoro per Cavriani, vero? No. Nonostante mia sorella mi aveva avvertito dell'incidente, non ho disdetto, perché mi ha anche detto che ti ha visto rilassarti senza problemi nel tutto incolume, e vista le tue manie di grandezza, immaginato volessi portare a termine il lavoro come se niente fosse. Però avrei gradito sapere da te se eri vivo morta. Non hai pensato che avresti potuto preoccuparmi? Una telefonata e chiedere troppo, sono la tua segretaria dopo tutto. Una ragazza quasi muore in un'esplosione ed ecco come viene ripagata, con una predica. Come puoi immaginare, sono stata un tantino occupata tra la bomba, l'ospedale, la polizia e Edoardo e poi scusa, quale mania di grandezza? Mi riferisco al fatto che, pur di non ammettere una debolezza, ti tagliaresti un braccio. Ho ancora in mente quella volta che ti occupasti del caso del giocogliere innamorato con la frebbre 39. Praticamente non stavi in piedi, ma ti sei arrampicata addirittura sul trapezio per parlare con la sua bella e convincerla a dargli una possibilità. È stato un miracolo se non sei svenuta e caduta. Forse non ci crederai, ma non sei Wonder Woman, anche se pensi di essere una specie di supereroe che migliora le vite altrui volando al di sopra della morale comune. Sei solo umana, una donna che, per denaro, aiuta persone moralmente deproveboli. È davvero bello sapere cosa pensi di me, Giulia. Hai migliorato la mia già bellissima giornata. Grazie. Non ho detto che sei tu ad essere deplorevole. Solo che alcuni tuoi clienti lo sono. Quello che fai lo fai in buona fede. L'ho capito. È solo per questo che continuo a lavorare per te. Hai una visione un tantino distorta della realtà, certo, ma sei sinceramente convinta di fare del bene. Infanto, menti a te stessa tanto quanto agli altri e per questo sei scusabile e in un certo senso persino mirabile. Ma sbaglio prima hai detto bomba. Cosa hai combinato questa volta? Niente. Perché devi sempre saltare alla conclusione che tutto sia colpa mia? In questo caso io sono solo la quasi vittima e per tua informazione non ho affatto una visione distorta della realtà e i miei clienti non sono affatto deplorevoli. Continuo pure a crederlo se vuoi ma spiegami di quale diavolo di bomba stai parlando. Alzo gli occhi al cielo anche se so che non può vedermi mentre esprimo la mia esasperazione davanti al suo ordine praticamente urlato nelle mie povere orecchie già doloranti. Non si è trattato esattamente di un incidente. La macchina è saltata in aria per via di una bomba. Silenzio. Caspita. Lasciare Giulia senza parole basta quasi a ripagarmi dello spavento che ho preso oggi. Peccato che si riprenda subito. Sapevo che sarebbe successo prima o poi di cento anni rassegnato. Cosa intendi? Domanda sconcertata. Il tuo lavoro tutta la gente a cui menti prima o poi sapevo che qualcuno si sarebbe voluto vendicare per essere stato preso in giro. Non dire sciocchezze nessuno ce l'ha con me e poi era la macchina di Edoardo. Giulia scoppia a ridere e chi mai vorrebbe fare del male a quel poverito è talmente buon ingegno da sembrare quasi tonto. No, dammi retta il bersaglio eri tu. Sciocchezze si è trattato di un errore uno scambio d'auto o qualcosa del genere ma adesso basta parlare dell'incidente o finirò per arrivare in ritardo al bar. Mandami Alberto mi raccomando va bene ma tu stai attenta tutta questa storia non mi piace e se ti accadesse qualcosa rimarrei disoccupata. Grazie Giulia sono commossa dalla tua preoccupazione nei miei confronti. Chiudo la chiamata e inizio a prepararmi mentre aspetto Alberto. Visto che non posso usare la mia macchina senza di lui non posso andare da nessuna parte comunque il lavoro di stasera necessita di un trucco speciale una parrucca rossa di capelli veri lente a contatto azzurre un make up più pesante del solito con un eyeliner ben visibile e labbra scarlatte. Mi guardo allo specchio soddisfatta di non riconoscere. Una minigonna in pelle nera e un top che malappena mi copre il seno competono il travestimento. Stanotte interpreterò una persona ben precisa la cui foto campeggia sullo specchio in modo che possa imitarne al meglio i tratti con il trucco. Il corso da make up artist che ho frequentato l'anno scorso mi torna spesso utile sul lavoro ma nemmeno il truccatore più esperto può fare miracoli ed è raro che impersoni qualcuno per i miei clienti in questo caso tuttavia io e la barista Deborah con l'H mi raccomando ci assomigliamo parecchio sia nella struttura fisica che nei lineamenti e così mi sono detta perché no. Sto aggiungendo un secondo strato di mascara per enfatizzare la mia area da donna estremamente facile quando il campanello suona. Apro la porta e faccio entrare Alberto bastano poche parole per descriverlo assomiglia come una goccia d'acqua a Raul Bova come era dieci anni fa all'apice della bellezza solo che lui ha occhi verdi anziché azzurri naturalmente visto il suo aspetto è un attore o meglio aspirante tale infatti finora non ha mai ottenuto parti di rilievo né al cinema né in televisione perciò è abbastanza anonimo per servire i miei scopi non ingaggio spesso degli aiutanti per mettere in atto i miei piani anche perché ridurrebbero di qualche i miei guadagni ma a volte non posso farne meno questa sera però il ruolo che Alberto dovrà interpretare è un po' diverso dal solito e con rammarico vedo che non si è vestito in modo adeguato per l'occasione devi impersonare un camionista e ti vesti con un completo blu firmato lui sgrana gli occhioni dalle ciglia più lunghe delle mie e mi guarda sconcertato Giulia non me l'aveva detto sospiro non posso certo prendermela con lei con il casino di oggi è normale che la sua consueta efficienza sia andata a farsi benedire d'accordo improvviseremo invece che con un camionista vorrà dire che Deborah se la farà con un facoltoso uomo d'affari tanto meglio d'altronde chi mai mollerebbe un figurico e di classe per un operaio di mezza età la mia è una domanda puramente retorica e la risposta altrettanto retorica è nessuno spero la pensi così anche la moglie del mio cliente l'operaio di mezza età in questione che da poco ha una nuova amante Deborah sono anni che Cavriani tradisce la consorte con varie donne dalla paiochiera Procacce alla cubista Nymphomane e finora sono sempre riuscita a coprire le sue malefatte ma anche io ho dei limiti e la signora ha finalmente subodorato qualcosa riguardo alla sexy barista questa volta occorrono prove inconfutabili per scagionare Cavriani e visto che è un cliente fedele ci daremo da fare per lui Deborah lavora a Rio Grande De Feguo sì lo so è il nome più brutto che avete mai sentito ma io non ho colpe a riguardo che si trova in mia massina poco lontano dalla sede di radio DJ e si spaccia per un locale sudamericano nonostante sia gestito da napoletani fortunatamente per me è poco più di un seminterrato buio perennemente fumoso dove una clientiera vario pinta si ubriaca a parte di drink dal sapore brasiliano a suon di samba passare per Deborah non dovrebbe essere difficile non appena entro dal retro Deborah mi sorride e si defina io mi allaccio invito il suo minuscolo grembiore nero senza pettorina e faccio il mio ingresso nel bar ora se Cavriani avrà fatto quello che doveva fare cioè lasciare l'ennesimo indizio che conducesse sua moglie qui stasera stavolta di proposito lo so dovrebbe iniziare a breve mi aggiro tra i tavoli ammiccando agli uomini presenti e servendo drink posso sopportare lo scomodissimo perizoma di pizzo che indosso gli sguardi lascivi diretti il mio petto in bella mostra e anche lo stare a lungo a piedi sui tatti ma giuro che se qualcun altro mi parpe il sedere nei prossimi 5 minuti mi metto a urlare e poi gli do una vassogliata in faccia finalmente grazie al cielo vedo arrivare la moglie del nostro cliente mi volto verso Alberto seduto al bancone e gli faccio un cenno ancheggiando mi dirigo verso di lui e mi sento sulle sue ginocchia iniziamo ad amoreggiare ma lui non mi sembra molto convincente sforzati un po' di più di sussurro tra un bacio finto e l'altro lo so che sei gay ma sei pur sempre un attore chi ci guarda non può sapere che le nostre labbra toccano solo mento e guancia dell'altro la loro visuale l'inganna ma un po' di passione nel modo in cui le mani di Alberto mi stringono sarebbe benvenuta quale amante non palperebbe il seno dell'amata mi sto sforzando ribatte Alberto piccato ma cosa posso aspettarmi d'altronde è un attore ma non è certo bravo se avesse avuto un briciolo di talento con la bellezza che si ritrova quest'ora avrebbe già ottenuto come minimo un ruolo official e una fiction devo accontentarmi vi è piaciuto? questo era un un brevissimo estratto da Life for Me letto da una non professionista la sottoscritta quindi letto anche male se il libro vi incuriosisce andate a vedere su internet Life for Me professione bugiarda pubblicato da HarperCollins Italia colonna Elite di Maria Chiara Cabrini in vendita su tutti i siti in versione digitale